Musica Buongiorno, ben ritrovati per il consueto appuntamento giornaliero con la carta stampata Sono le 7.45, questo è Occhio ai giornali sul canale 17 Fano TV Però prima di iniziare a sfogliarli, oggi abbiamo soltanto due edizioni, Carlino e Cori Adriatico Perché il messaggero non era disponibile nell'edizione PDF, quindi nell'edizione digitale Vediamo però prima il santo del giorno e poi le previsioni del tempo Oggi mercoledì 9 luglio, Santa Veronica Vergine, il sole è sorto alle 5.34 e tramonterà alle 20.52 E guardiamo le previsioni per i prossimi giorni Quelle per oggi è questa, il cielo inizialmente è poco nuvoloso Con aumento però della copertura nelle ore centrali della giornata In particolare nelle zone interne Vedete nella nostra provincia campeggia anche un po' il simbolo della pioggia Quindi deboli rovesci sparsi nelle zone interne, le ore centrali della giornata Però questo riguarderà anche la nostra fascia costiera Temperature in lieve diminuzione Domani giovedì si preannuncia, l'abbiamo visto anche i giorni scorsi Un giorno un po' impegnativo meteorologicamente parlando Perché come vedete nella cartina non compare il simbolo del sole in nessun senso Quindi nuvoloso, soprattutto nella seconda parte della giornata Ci saranno le piogge e saranno ancora più insistenti nel proseguo della giornata Addirittura sui rilievi appenninici Saranno a carattere di rovescio, di temporale Previsioni per venerdì Le cose migliorano un pochettino Nella prima parte della giornata ci sarà sempre la comparsa delle nuvole Però insomma nel pomeriggio andrà migliorando la cosa Rovesci e temporali sparsi più che altro sulla fascia costiera Come vedete anche dalla simbologia Temperature in lieve ulteriore diminuzione Guardiamole quindi queste temperature Per oggi 16-27 gradi Come punta massima E invece per giovedì Vedete sono scese di un paio di gradi Come previsione arriviamo come massima a 24 E quindi allora vediamo i quotidiani di oggi Però prima di fare questo Sapete che ieri sera c'è stato un incendio Sono andate a fuoco due roulotte Al camping Fano di Metaurelia Noi eravamo lì con l'operatore Andrea Lombardi Che ha carpito le prime immagini Vediamo, preiamo la regia di mandarle in onda Che buon vuole di continuo No, no, non è fatto Eh, domani Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.